Con l'ufficializzazione della nomina dell'assessore dei trasporti Massimo Dejana, la carica di presidente dell'autorità portuale della Sardegna, si avvicina il momento del secondo rimpasto nella giunta regionale presieduta da Francesco Piglieru. Un cambiamento della squadra di governo che arriva a pochi mesi dalla sostituzione di quattro assessori e che ora imporrà la nomina dei titolari dei trasporti e dei lavori pubblici, il cui interim, dopo le dimissioni di Paolo Maninchè, dal leader del Partito dei Sardi, è stato affidato al vicepresidente e assessore alla programmazione Raffaele Paci. L'assessorato dei trasporti andrà a un esponente del PD, mentre per i lavori pubblici si attende il congresso del Partito dei Sardi, cui spetta comunque la designazione del successore di Maninchèdda. Il presidente Piglieru conta di ricomporre la squadra di governo entro la fine del mese di giugno per poi affrontare con questa compagine, salvo imprevisti sempre possibili, l'ultimo anno e mezzo di legislatura. Certo, gli ostacoli non mancano a cominciare dalla riforma della rete ospedaliera. Se sugli atti aziendali dell'ATS si è trovata la quadra in Commissione Sanità, la riorganizzazione degli ospedali sardi sta suscitando malumori trasversali e non si escludono ulteriori fibrillazioni politiche. A livello nazionale sono tramontate le ipotesi di elezioni anticipate e questo potrebbe rassenerare il quadro politico sardo, anche se sono iniziate le grandi manovre per la prossima legislazione col centrodestra che punta a riconquistare Villa Devoto.